ci sono tanti modi per disegnare senza i pennelli ad esempio con le mani oggi creiamo degli animali il materiale che ci occorre è dei fogli bianchi una matita una gomma e colori a vostra scelta io usero dei pennarelli a spirito disegnate il contorno della vostra mano su un cartoncino bianco adesso vi farò vedere degli esempi iscriviti al canale iscriviti al canale grazie a tutti 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 come potete vedere in base alla posizione delle mani possiamo realizzare tante forme adesso tocca a voi trovare tante forme e disegnare tanti oggetti grazie a tutti 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 Grazie.